Musica Siamo qui noi, il nuovo futuro, i giovani, siamo qui a manifestare ovviamente per un futuro migliore, più ecologico. Via dai carburanti fossili, sono emozionatissimo per questa esperienza e per questa manifestazione. Ci troviamo qui in prima fila con questo cartellone cercando di dare un messaggio, speriamo, importante. Noi siamo qui oggi perché vogliamo combattere contro questa storia del clima perché non è giusto che dovremo vivere in un pianeta così inquinato e che tanti esseri viventi stanno morendo e a noi non ce ne frega niente e quindi siamo qui oggi per combattere contro questa cosa. Siamo tutti nella modalità di Greta, quindi how dare you, non si può più sostenere che nella vita di tutti i giorni ci impegniamo ma le politiche non rispecchino comunque i valori che la gente chiede. Per noi di se decidere essere presenti qui significa fondamentalmente due cose. Per prima cosa incoraggiare la partecipazione dei ragazzi, cosa che abbiamo sempre fatto nei nostri progetti. Tra l'altro è presente qui in questa manifestazione in altre dieci città i nostri ragazzi del movimento giovanile e poi perché i cambiamenti climatici influiscono drammaticamente sulla vita di milioni di bambini in tutto il mondo. Noi vogliamo dire basta a tutto questo e siamo al fianco a questo splendido movimento che tanto ci emoziona e ci lascia ben sperare per il futuro del mondo. Sono un vero scritto.